Ciao a tutti, bentornati sul canale Amoglitaliani.Fabrizio Corona pubblica un video privato di Antonella Fiordelisi e Scoppia il puttiferio Nella clip incriminata l'influencer salernitana, vista nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip dove si è innamorata del coinquilino Edoardo Donnamaria, la loro love story è già arrivata ai titoli di coda, NDR Si trova nello studio dell'amico chirurgo plastico Giacomo Urtis per un trattamento Antonella Fiordelisi, con un passato da schermitrice, è distesa su un letto e indossa soltanto una maglietta e un paio di slip Fabrizio Corona fa irruzione nella stanza e dice, porco, apri un attimo le cosce? Ma sei sprecata per Edoardo Donnamaria No, ribatte l'ex geffina imbarazzata.Dopo aver appreso che Fabrizio Corona aveva pubblicato il video sul suo canale Telegram, Antonella Fiordelisi si è vista costretta ad intervenire Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico, ha scritto su Twitter, non ho autorizzato in alcun modo l'ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video né tantomeno la diffusione degli stessi Invito chi ha pubblicato tali contenuti senza il mio consenso e a mia insaputa rimuoverli, chi si è reso responsabile di tali condotte ne risponderà nelle sedi più opportune Immediata la replica di Fabrizio Corona. L'ex fotografo dei VIP ha condiviso tra le sue Instagram stories un'immagine di esse Maria Goretti. Ecco la reazione che mi aspettavo, ha fatto sapere, indignazione, molestie... Subito andiamo sul pesante Ecco perché nasce questo canale... Come ho detto più volte è un canale libero... Non è difficile comprendere Cercate di stare sereni e rilassatevi. La Fiordelisi è famosa perché il sottoscritto l'ha aiutata Giacomo è un mio amico da sempre. Forse non avete amici, forse siete così serie e impegnati da non avere mai scherzato con gli amici È tutto così serio e volete far diventare serie anche le Cate, ha aggiunto Fabrizio Corona, non buttiamola sul patriarcato, le molestie e tutte le nenate che puzzano di santa inquisizione, fatevi una sana risata Anche tu Antonella... Non sei il magnifico rettore dell'Accademia della Crusca... Non sei nota per le tue doti intellettuali... State calmi e sorridete... La vita è bella... Si gioca Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video